Il servizio del Tg1 è andato in onda oggi nell'edizione delle 13.30, firmato da Mara Martelli, realizzato da Reggio Calabria, è il peggior esempio di disinformazione che denota una profonda ignoranza dei fatti trattati. Un'offesa al buonsenso che porteremo di fronte alla Commissione Vigilanza RAI e in Tribunale, con tanto di denuncia per diffamazione. Lo dichiara Davide Caparini, responsabile della comunicazione della Lega Nord. Da aver collegato la Lega alle perquisizioni fatte oggi nell'ambito dell'inchiesta sui presunti legami tra Belsito e l'Andrangheta, è un vero e proprio killeraggio giornalistico. Come abbiamo avuto già modo di chiarire in tutte le sedi, prosegue Caparini, le vicende giudiziarie del signor Francesco Belsito non coinvolgono la Lega Nord, né possono essere in alcun modo collegate al movimento. Presenteremo denuncia querela con richiesta di risarcimento nei confronti di chiunque continuerà con evidente malafede, conclude Caparini, a proporre questo teorema falso e infame.